Sono 154 i gruppi criminali storicamente presenti nel Lazio dagli anni 70. Di questi, 62, sono stati tracciati da indagini e processi, ma non sono più citati in indagini giudiziarie o rapporti istituzionali da almeno 4 anni. Ciò non significa che non siano più operativi. I clan invece attivi al dicembre 2017 sono 93 tra gruppi, famiglie tradizionali, autoctone e narcotrafficanti. È quanto emerge dal terzo rapporto mafie nel Lazio. Dei 93 clan, 50 operano solo a Roma, dove è presente anche la mafia tradizionale. Il sistema criminale romano vede inoltre l'azione di gruppi autonomi che entrano in azione con organizzazioni più strutturate e con i narcotrafficanti che controllano alcuni quartieri. Non ultimi sono presenti i boss delle mafie straniere. Un contesto in cui l'acquisto e la vendita di attività commerciali funziona spesso da lavatrice, ovvero da macchina a lava soldi. A riguardo, il monito è arrivato dal prefetto Paola Basilone. I cittadini non possono restare a guardare o approfittare del malaffare per convenienza, afferma. È necessario fare attenzione a chi si cedono le attività. Grazie a tutti.